Una telemovera infinita che adesso si tinge anche di giallo con questo comparire, scomparire e ricomparire dei soldi. Non si capisce, non si sa neanche se siano mai esistiti. Quarto lotto della tangenziale di Treviso, dopo il sostanziale accordo tra il governatore Luca Zaia e il sindaco Giovanni Manildo per la presentazione di un nuovo tracciato e il riavvio del liter dell'opera, ecco lo sfogo del comitato che si batte contro l'intervento. Vogliono fare quest'opera pubblica che non serve secondo noi, è un'ennesima opera pubblica fatta per altri scopi, non per l'interesse dei cittadini. Io vorrei rivolgermi ai personaggi di questo teatrino, al governatore Zaia vorrei ricordare che ha detto dopo il disastro di Refrontolo e della riviera del Brenta basta asfaltare, basta strade. Al sindaco Manildo voglio dire si ricordi quanto ha detto a me personalmente, ai Tg e ai giornali non sarà fatto scempio in via Casette. Al sindaco Pietro Bondi Paese lui ha detto che non vuole questo tracciato, non vuole la tangenziale nel suo territorio non vuole la colata di cemento nel suo territorio, però la vuole in quella degli altri. Ma neppure la maggioranza di Manildo è compatta sull'opera, a sorpresa sia Marco Scolese che il capogruppo del PD in consiglio Giovanni Tonella prendono la difesa dei cittadini. Il comitato pone questioni serie, dice Tonella, che devono essere ascoltate. Il nuovo ITER del quarto lotto si preannuncia altrettanto complicato del precedente, se non di più, perché resta il nodo del reperimento di nuove risorse dal momento che Veneto a strade ha dirottato altrove i 54 milioni accantonati.